La contraddizione vera, quella che il dialeteismo ritiene esista, come contenuto valido nel senso, in che senso? Come un contenuto che scaturisce da un ragionamento valido e che per giunta esprime è un contenuto vero, non negato dalla logica o addirittura possibile da un punto di vista ontologico. Il dialeteismo ritiene che possano esistere anche da un punto di vista ontologico delle contraddizioni. Questo non vuol dire sostenere che allora tutto sia una contraddizione, infatti lo stesso dialeteismo nega il trivialismo e ritiene che le eventuali contraddizioni sarebbero circoscritte e quindi non comporterebbero un effetto domino di contraddizioni, non farebbero sì che l'intero sistema che contiene delle contraddizioni risulti tutto contraddittorio. Tuttavia, la contraddizione vera è impossibile, non perché violerebbe semplicemente il principio di non contraddizione e quindi si starebbe presupponendo la sua inviolabilità, perché ragionare in questi termini sarebbe una petizio principi. Significherebbe assumere surrettiziamente l'inviolabilità del principio di non contraddizione. Il motivo effettivo, lo ha spiegato Severino, il motivo riguarda la necessità dell'opposizione, perché tale necessità fa sì che per avere una contraddizione vera è richiesto che la situazione di opposizione interna alla contraddizione, quella che dovrebbe appunto produrla, riesca ad essere determinata, ma per essere determinata deve rispettare l'opposizione. Quindi i termini in opposizione che dovrebbero creare la contraddizione dovrebbero essere posti al suo interno, all'interno della posizione della contraddizione, all'interno del significato della contraddizione, come determinati, cioè come identici a loro stessi e come distinti da tutto il resto e in particolare da ciò verso cui si trovano in opposizione, in un'opposizione che è esclusione. Esempio di un cerchio quadrato. Un cerchio quadrato non può essere un contenuto vero, ma al massimo si può immaginare un tentativo di realizzazione di questa figura impossibile. Il vero motivo per cui questa figura è impossibile è perché, se parliamo del cerchio e del quadrato dal punto di vista della bidimensionalità di queste figure, e quindi prendiamo la loro forma concreta, perché al di là delle definizioni, le definizioni del cerchio e del quadrato sono connesse anche alla figura che è rappresentata a livello grafico, visivo, simbolico. Per cui queste figure sono determinate. Ora, un cerchio non è un quadrato, e un quadrato non è un cerchio. Una figura cerchio quadrato sarebbe una figura che è simultaneamente, nel medesimo rispetto, tutta cerchio e simultaneamente tutta quadrato. E che vuol dire non che riesca ad essere entrambi nel medesimo rispetto insieme, ma che non riesca ad essere nessuno di loro, perché la figura sta innanzitutto prospettando di essere un cerchio e un quadrato, quindi è lei stessa, è l'esempio paradossale, contraddittorio di questa figura, che sta già da subito assumendo dei significati come determinati, e poi però non riesce a rispettare tale determinatezza, la quale, se viene meno, fa venire meno anche il tentativo di combinare in maniera impossibile nel medesimo rispetto a queste due figure. Quindi non è che si debba presupporre che si riesca ad includere questi termini in opposizione in una situazione contraddittoria, e che semplicemente il problema sia di creare una contraddizione che violerebbe il principio di non contraddizione. Il problema è che la contraddizione non riesce neanche a istituirsi in modo valido, l'unica cosa che si tenta di istituire è il contraddirsi, cioè si attua solo il tentativo, si cerca di attuare il tentativo di mettere in opposizione impossibile dei termini che si escluderebbero a vicenda e che si escluderebbero non perché se stessero insieme violerebbero il principio, ma perché stando insieme nessuno dei due sarebbe se stesso e quindi non potrebbe neanche istituirsi l'opposizione tra elementi che non sono neanche loro stessi, perché l'opposizione scaturisce dal loro differire, e il loro differire è relativo alla loro identità. L'identità e la differenza sono due aspetti di un'unica struttura. Una cosa è se stessa un significato, un qualunque positivo, è se stesso ed è affermato, inteso come se stesso, anche perché differisce da tutti gli altri e differisce da tutti gli altri perché è se stesso, quindi il differire e l'identità sono due tratti cooriginari, non è che uno venga prima o dopo dell'altro, se mancasse uno mancherebbe anche l'altro e quindi non c'è una precedenza dell'uno rispetto all'altro, sono due tratti cooriginari di un'unica relazione unitaria, di un'unica struttura unitaria. Ora, chiarito bene questo, la contraddizione vera sarebbe l'impossibile contenuto realizzato dal tentativo del contraddirsi, non il mero contraddirsi. Il mero contraddirsi non è un contenuto contraddittorio, esattamente come il cercare di immaginare un cerchio quadrato non è un contenuto corrispondente a quello che si vorrebbe immaginare. Quando si cerca di immaginare un cerchio quadrato, si cerca solo di giustapporre queste due figure, ma non riesce il tentativo. Perché se per assurdo riuscisse, ma non può riuscire proprio intrinsecamente perché dovrebbero stare insieme nel medesimo momento, nel medesimo rispetto, due identità che stando insieme si escluderebbero a vicenda come identità e quindi senza essere identiche a loro stesse in quel momento non differirebbero neanche tra loro e quindi non ci sarebbe neanche il contraddirsi tra loro. Per quello è un tentativo impossibile e se anche per assurdo, lo ripeto, è impossibile, si realizzasse un cerchio quadrato, si autoannullerebbe istantaneamente, non appena si fosse creato nello stesso momento si autoannullerebbe, si autoannullerebbe perché appunto dovrebbe essere sia il cerchio che il quadrato non riuscirebbe ad essere nell'uno e nell'altro e non riuscendo ad essere in quella situazione nell'uno e nell'altro non potrebbe essere neanche la loro sintesi contraddittoria in opposizione. Una volta quindi ricordato e spiegato questo, è il motivo vero per cui la necessità dell'opposizione nega la possibilità delle contraddizioni vere, credo che risulti ancora più chiaro il motivo per cui l'opposizione è sempre necessaria e lo stesso dialeteismo, nella stessa prospettiva del dialeteismo, a un livello implicito si pone questa necessità anche se non la si afferma in maniera diretta, ma traspare dall'uso che se ne fa dell'opposizione, del principio di non contraddizione. Ricordo che il nucleo del principio di non contraddizione è proprio l'opposizione, quale sintesi del principio di identità e di differenza. Nel dibattito che c'è stato tra Price e Severino, si può dire che a un certo punto Severino abbia chiesto perché per alcune situazioni riteneva che la contraddizione vera fosse vera, accettabile e per altri no. Perché per alcune situazioni si poteva contravvenire il principio di non contraddizione e per altre situazioni no. Io adesso dovrei andare ad ascoltare questo dibattito, perché l'ho visto tempo fa, ma da quel che ricordo non c'era stata poi una risposta proprio nel merito di questa domanda. Questa domanda è fondamentale, perché fa capire, questa domanda induce a far capire che la necessità dell'opposizione non è una questione di scelta. Allora, immaginiamo una situazione assurda e impossibile, ovvero se tutto fosse contraddittorio sarebbe possibile dire che tutto è contraddittorio? Sarebbe possibile la contraddizione? Ovviamente no, ma non perché se tutto fosse una contraddizione non ci sarebbe una situazione non contraddittoria che differirebbe dalla situazione contraddittoria e quindi la situazione contraddittoria, essendo universale, non permetterebbe di essere tale. No, non è solo per questo, ma perché se tutto fosse una contraddizione vorrebbe dire che tutto sarebbe in una situazione di autonegazione, cioè mancherebbe qualunque forma di determinatezza e abbiamo spiegato, ho riportato il nucleo di questa argomentazione fondamentale di Severino. Se mancasse la determinatezza tra gli elementi in opposizione non ci sarebbe neanche l'opposizione tra di loro e la contraddizione è proprio quello, è il tentativo di creare un contenuto contraddittorio che sia il frutto di un'opposizione tra diversi termini e significati reciproca esclusione. Se questi termini non fossero determinati non ci sarebbe neanche la loro opposizione e se questa opposizione intende mantenersi determinata nella situazione paradossale delle contraddizioni non riuscirebbe a mantenersi e quindi non ci sarebbe neanche comunque il contenuto contraddittorio, cioè svanirebbe anche la stessa situazione dell'opposizione tra questi termini e se svenisse questa non ci sarebbe la condizione di possibilità per avere una contraddizione vera. Se si volesse mantenere fino in fondo l'opposizione determinata in una situazione ritenuta contraddittoria, la situazione contraddittoria non sfocerebbe comunque mai in una contraddizione vera, perché l'unico modo per mantenere la determinatezza dei significati e dei termini in questione sarebbe di mantenerli in riferimenti diversi e non tutti nello stesso riferimento. Per esempio, per riprendere l'esempio della figura contraddittoria di prima, si potrebbe dire che una certa figura ipotetica è un cerchio da una certa prospettiva, in un certo rispetto ed è un quadrato visto da un'altra prospettiva, secondo un altro riferimento, ma non può essere un cerchio quadrato simultaneamente nel medesimo rispetto dal punto di vista grafico bidimensionale, intendo. Poi se ci si inventa altre dimensioni cambia tutto perché allora diventano rispetti diversi rispetto a quelli in cui sono definiti e inclusi le figure di cui ho parlato. Quindi, attenzione, l'esempio va preso per come è stato spiegato qui. Si fa riferimento a figure bidimensionali che non possono essere la stessa unica figura nel medesimo rispetto. Se si inventassero rispetti diversi, non si creerebbe nessun contenuto contraddittorio perché la figura non sarebbe simultaneamente un cerchio, un quadrato nel medesimo rispetto, ma in due rispetti diversi. Ora, non ci sono altri modi, non ci sono altre vie e possibilità per avere una contraddizione. O la contraddizione tenta di rispettare l'opposizione, ma se tenta di rispettarla, l'opposizione non riesce a crearla perché altrimenti autonegherebbe se stessa e la determinatezza stessa da cui dovrebbe scaturire il contenuto contraddittorio. Se invece non provasse a rispettarla, non avrebbe comunque addirittura in partenza la materia, la situazione, l'opposizione che dovrebbe produrla. E quindi, non essendoci altre possibilità, perché per definizione la contraddizione è proprio questo, è un contraddirsi tra elementi in opposizione che si escludono a vicenda e che pur tuttavia si ritiene riescono a stare insieme nel medesimo rispetto. Ed è qualcosa di impossibile. Non c'è altro modo. Se la contraddizione fosse intesa in altro modo non sarebbe contraddizione. Se non rispettasse tutte queste condizioni non sarebbe comunque una contraddizione e, lo ripeto, requisito comunque fondamentale, anche solo per prospettare la possibilità di una contraddizione vera, è l'opposizione. E l'opposizione stessa richiede la determinatezza di ciò che la compone. C'è poco da fare. So che esistono altre logiche, come quella paraconsistente, che non coincide con il dialeseismo, però comunque prospetta qualcosa di simile. Cioè che comunque ritiene che vi sono delle situazioni contraddittorie vere. E poi abbiamo, perlomeno dal punto di vista logico intendo, poi vi è la logica fazzi che invece dice, la logica fazzi che vi sono tanti valori di verità intermedi, vi sono tante sfumature di verità. Ma anche se vi fossero infiniti i valori di verità, non c'entra niente, perché comunque ognuno di loro dovrebbe essere determinato rispetto agli altri, altrimenti non avremmo neanche una gamma di sfumature. Per avere una gamma di sfumature, ognuna di queste sfumature deve essere se stessa e non le altre. Quindi bisogna sempre includerle tutte in una struttura di opposizione che le includa tutte. Per cui l'opposizione risulta sempre il terreno base di tutti i ragionamenti, di tutti i discorsi. E volevo solo sottolineare questo, come non potrebbe in alcun modo esservi una realtà totalmente contraddittoria, non perché violerebbe il principio di non contraddizione, non perché sarebbe tale da non poter neanche dire che è contraddittoria. Certo, ma non è questo il vero motivo che la rende impossibile. è che senza la determinatezza dell'opposizione, che esclude le contraddizioni proprio perché le contraddizioni sono la negazione della determinatezza e dell'opposizione, non ci sarebbe neanche la possibilità di avere una contraddizione. Per cui, la realtà logica-ontologica deve di base essere determinata e conforme all'opposizione. Solo questo permetterebbe l'eventuale immersione di qualche contraddizione, che quindi non potrebbe mai essere la base logica-ontologica, ma sarebbe al massimo un surrogato, un qualcosa di circoscritto, come pensa il dialeteismo. In realtà neanche questo può accadere, perché anche all'interno della situazione della contraddizione vera è impossibile che allo stesso tempo si mantenga l'opposizione che dovrebbe reggere la contraddizione ed avere una contraddizione vera, che è la totale negazione dell'opposizione e della determinatezza stessa dell'opposizione. Quindi è impossibile avere entrambe le cose, la determinatezza dell'opposizione, l'opposizione e poi un contenuto contraddittorio che è la loro totale negazione. È totalmente impossibile. E allora questo tipo di riflessione di rilievo fa capire come l'opposizione non sia una questione di scelta, perché anche volendola negare, anche volendo immaginare che vi fossero solo contraddizioni, bisognerebbe prospettare innanzitutto l'opposizione, che nega quindi che tutto sia una contraddizione, quindi nega il trivialismo. Ma non nega solo il trivialismo, nega anche il dialeteismo, perché anche la situazione circoscritta dal dialeteismo e dalle logiche paraconsistenti, la situazione di presunta contraddizione vera, non riesce ad essere ciò che essa vorrebbe prospettare, perché essa vorrebbe essere la totale negazione dell'opposizione, ma non può farne a meno per prospettarsi. Se non vi fosse l'opposizione e la sua determinazione, non ci sarebbe neanche la possibilità di avere una contraddizione. E questo è il problema. Tutto qui. L'opposizione è necessaria per questo, perché non è una questione di scelta. Deve esserci. Anche per prospettare la sua negazione si deve assumere. E quindi rende impossibile il suo stesso essere negata. Risulta impossibile perché dovrebbe essere sempre presente questa determinatezza. Non basta quindi presupporre che ragionamenti che sfociano in conclusioni paradossali affermino un contenuto vero, come pensa il dialeteismo, contraddizioni vere, solo perché il ragionamento appare sintatticamente corretto. È una condizione necessaria, ma non sufficiente. Bisogna vedere innanzitutto se il ragionamento riesce a mantenere fermi e determinati i significati e le premesse che lo riguardano e che mette in combinazione. Perché se non riesce a mantenere fermi questi significati, è come se non li stesse più usando, è come se stesse usando tutt'altro a un certo punto. O qualcosa di indeterminato che non è più quello da cui partiva. O qualcosa che da subito è posto come indeterminato, pur essendo proposto esplicitamente come determinato. Diciamo spacciato per determinato. È come se sapessimo che, dobbiamo svolgere una equazione, sapessimo che il risultato è un certo numero, tipo il numero 10, un'espressione algebrica, sappiamo che il risultato è 10. E però non sappiamo tutti i termini che compongono il primo membro di questa espressione, o di questa equazione, quello che è. E allora iniziamo a inventare retroattivamente quali possono essere i numeri per cercare di forzare, diciamo, lo sviluppo della relazione algebrica, così da far risultare che sia 10. Come se prima la svolgessimo, ci rendessimo conto che il risultato non arriva a 10, e anziché cercare di correggere, diciamo, le operazioni che abbiamo istituito, beh, cercassimo di cambiare proprio i fattori, i termini che compongono quelle operazioni. Questo implica il non trattare sempre in modo determinato, e il non riuscire a mantenere come determinati i significati che devono essere presenti in un ragionamento che sfocia in una conclusione contraddittoria, paradossale. E la conclusione paradossale, in qualsiasi caso, arriva sempre a negare una qualche premessa, in qualche modo. Se non a un livello esplicito, certamente una premessa a livello implicito. Grazie a tutti.